mister buonasera si aspettava così la sua prima vittoria l'importante era vincere avere preferito vincere in modo più semplice senza tutti questi tipi di problematiche però direi che queste vittorie sono le più belle le sofferte sono sempre quelle migliori la squadra ha saputo soffrire nei momenti difficili credo che questo va a merito a loro un grande merito alla squadra che hanno voluto a tutti i costi e ripeto da tanto morale in modo che noi possiamo arrivare all'ultima partita e cercare di giocarci a viso aperto anche lì come ha detto lei grande spirito di gruppo che si è visto in campo penso che ne lo veda tutti tutte le volte gli allenamenti condizioni degli assenti principe su tutti il bomber purtroppo ancora non abbiamo l'ok del medico quindi stiamo aspettando che in settimana questi valori salgano in modo definitivo e speriamo di poterlo recuperare almeno per i playoff sarebbe un miracolo già pensare di poterlo portare in panchina alla prossima domenica il principe non disponibile però sostituito egregiamente da Gabusi io credo che non... siamo qui con mister Puleo al termine di una partita roccambolesca terminata in favore del Pavia mister, dalla panchina che emozioni hai provato durante tutto il match sia quando siete passati in superiorità numerica sia al momento del rigore sia agli ultimi minuti? sì, devo essere sincero che venire qui a Pavia ti fa sentire un allenatore importante perché ho visto una tifoseria di altissimo livello, un pubblico molto caldo quindi c'è stata un po' di emozione iniziale poi quando è cominciata la partita tutto passa, ti concentri sulla gara ho visto che abbiamo avuto un buon approccio sapevamo che il Pavia parte molto forte che nei primi minuti è la squadra che fa più call in campionato penso che abbiamo retto bene l'urto forse nel momento migliore, passati anche con la superiorità numerica abbiamo ricevuto quel rigore a spavore che ci ha condizionato sinceramente ci ha condizionato perché i ragazzi hanno perso un po' la bussola perché non è facile dopo che ti viene decretato un rigore del genere e poi ci siamo dovuti riproppattare però alla fine penso che il primo tempo è stato giocato molto bene dalla mia squadra il rammarico e nei minuti finali che in vantaggio di con una doppia superiorità numerica dovevamo per forza fare di più e invece non ci siamo riusciti ci siamo fatti prendere dalla frenesia poi il gioco è stato molto spezzettato che poi non è stata secondo me una partita cattiva magari il bollettino di guerra fa pensare che sia stata una battaglia invece secondo me è stata una bella partita giocata a viso aperto e niente poi ci prepariamo ora per domenica col Club Milano come ha detto l'episodio del rigore che andrà analizzato il BP Bar sicuramente partita molto spezzettata giudizio arbitrale e opinabile però non siamo qui a parlare di questo mister adesso play out inevitabili dopo il risultato di oggi cosa puoi dire ai suoi ragazzi in vista della prossima partita e in caso in vista... ma quando sono subentrato io mi sembra che il calendario recitasse Magenta, oltre Popoghera, Solbiatese, poi Pavia e Club Milano quindi erano le cinque squadre che erano in testa della classifica quindi si sapeva che il cammino era in salita e che magari si potevano anche disputare i play out stiamo lavorando appunto per migliorare alcune situazioni ci faremo trovare pronti nello spareggio io penso che se la squadra gioca con questa unione con questa voglia comunque di lottare fino al 97esimo ogni partita secondo me possiamo benissimo raggiungere l'obiettivo che sarebbe comunque un'impresa che sarebbe veramente un'impresa sportiva perché non è facile subentrare a cinque giornate dalla fine portare entusiasmo, ottimismo lavorare su alcune nozioni tecnico-tattiche, atletiche non è facile quindi sono molto fiduciosi i ragazzi sono con me e sono convinto che raggiungeremo l'obiettivo mister, vi auguriamo un buon finale di stagioni da tutta la redazione grazie, grazie